Eppure. Porto, Sanghelini. Allora, quei assenti e 8 presenze. Bene, la Polizia del Lavoro è il tuo puntatore del giorno, che è l'approvazione del bar e della sanità precedente. La scuola seguita al 28 luglio, andiamo a trovare il bar e la sanità precedente. Lavoro, il bar e la sanità precedente, la relazione di bilancio, la tipica della relazione 63, attituzione di una relazione di alcuni beni immobili a Foto-Bolasco, conferimento di inserizio della proposta di servizio di struttura delle proprie comunali e comunicazione di segno. Dicione domande? Si fa una votazione favolevoli, contrari, assenuti e consigli a favore della comunità. Si passa il punto numero 2. L'incremento del capitolo di 20 mila euro per il SEVAS, quindi della logica, naturalmente che sono avviate alla fine che permette di fare l'acquisizione dell'avviso della società SEVAS, delle porte d'azione della provincia della società SEVAS, che esiste nel nostro territorio, e che tra l'altro troverete un punto successivo in quanto riguarda la SEVAS Controllo. Quindi l'incremento di 20 mila euro per la partita, un investimento di 12 mila euro per l'escapa archeologico alla chiesa, c'era discussione insieme al comune di Sazema, 10 mila euro per l'acquisto dell'ex cartiera per Dambolini, però si arriva a fabbrica di Valido, per i muovili del Ruto, 388 mila euro per il riso della realità, il camponello di San Pellegrimento, che è la difesa del suolo, 34 mila euro che è la prima parte del finanziamento che abbiamo avuto sulla sequenza serale. Quindi abbiamo poi racconto le varie citture a capitoli minore, che è la prima parte del finanziamento che abbiamo avuto 38 mila euro di avanza di amministrazione e il resto aggiustamenti vanno nel 1000-2000 euro. Ci sono domande? Si ponono notazioni? A volevole? Contrari? Assemu pazienti! No, 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 no. Il consiglio approva, il bianco di stabilità, a volevole? Contrari? Asssemu di consiglio approva. si passa al punto successivo articolo 175 come sapete gli assistamenti si fanno già in questa data virtù del nuovo cambio di stabilità del governo, delle cose principali che crediamo si può essere arrivato il contributo della regione leggermente in filone in questa fase a settembre ci saranno e dovrebbero essere integrati, portiamo l'aumento dei contributi invece dello stato di 50 mila euro sempre per le flusioni abbiamo poi tutta una serie di indore e aggiustamenti che sono stati fatti qua e là stabilire la parte precisa le coste dei vari capitoli e un investimento di 15 mila euro sul campo equivalente di fabbrica di Vali che può essere un altrimenti più interessante come il porto abbiamo poi ammesso un po' di di risorse per andare a 20 mila euro abbiamo messo la depatomia sulla pubblica illuminazione abbiamo aumentato l'assistenza scolastica per 100 mila euro e le spese del trasporto pubblico locale che hanno aumentato anche quello in maniera consistente ci sono domande simbolo in portazione favolevoli contrari astenuti il consiglio a prova immediata esegibilità favolevoli contrari astenuti consiglio a prova favolevoli condizionali condizionali a seguito il nuovo l'adempamento di legge che è il motivo per cui viene fatto il consiglio il DUP anche in questo caso mi ricordo che il DUP è il titolo diciamo di presentazione entro il mese di settembre chiunque voglia può fare le loro osservazioni fa riferimento al piano degli investimenti dell'anno scorso perché il piano degli investimenti si fa un ottobre quindi ovviamente sarà soggetto potere con le modifiche che verranno presentate in qualche modo il consiglio però l'automatica prevede di presentare quindi ve lo presentiamo il titolo di messa a disponibilità quando mi sono all'altezza ci sono domande attiva risparmi ma ecco il meccanismo che abbiamo capito perfetto siccome la votazione favolevoli contrari astenuti un attento il consiglio a prova immediata esegibilità favolevoli contrari astenuti il consiglio a prova siamo alla sera sebas controlli di nuovo abbiamo parlato di più occasioni il discorso di sebas che con il passaggio delle funzioni per la provincia delle zone della cedile in riguardo caldari e quindi si è diviso in due sebas acqua i vari eventi che era più uguale il processore delle centrali da fare la proprietà campagna e sebas controlli e invece per l'anno d'azienda che deve passare alla regione toscana in cui i comuni fami che eseggiano il titolo 0,40 del 100 per dirsi in moglie 0,70 e che in giù di questo alto finalmente 0,73 in giù di questo alto potrebbero tranquillamente passare alla regione toscana con richieste è un altro che abbiamo già fatto la provincia di Capano e l'autore della media se volete qualche chiarimento ulteriore sebas è una società che ha effetto il consorso delle cantaglie nasceva come società di produzione delle geletiche con la centralina qua a parte di Rivaldo e poi ha ampliato il proprio settore perciò l'altro anche per il consorso delle cantaglie sebas è una società della stradelle di cui il 70% è posseduto dalla provincia di Lucca il 20% della Repubblica Pantoli circa il 10% del 1.5% della media valle e il 0.74% del 1.5% di Marco in obiettude della regione della regione della regione quindi comunque il spostamento della regione della provincia alla regione toscana diventa il soggetto che viene effettuato i controlli sulle cantaglie per fare questo la regione a livello del pubblico territoriale di Marco ha imposto alle province di chiudere tramite conferimento la regione toscana e le varie società in quanto le faranno a Roma in cui se attualmente vi erano 10 società in regione toscana dove ce ne avevamo solo di tenere completamente la regione toscana siccome le SRL quindi le quote sono dei vari soggetti provincia unione e comuni noi le dobbiamo dare alla regione toscana per poter dare il cuore e le lettere dobbiamo stare così iniziamo d'accordo nel fatto iniziamo d'accordo iniziamo d'accordo iniziamo d'accordo anche perché la legge che vedeva che ci fosse anche la scissione addirittura controlli controlli siamo tornati in consiglio perché poi non erano precisi gli Achi diciamo che la regione è stata abbastanza il comune va a cedere al termine di permettante del polizia per un valore di un che ha 19 euro quindi questo è un impatto del comune che aveva fatto con il polizia donna e credo scusa un po' di fretta si passa un po' di gioco vero la regola toscana questo è primetto che questo passaggio ha permesso però di mantenere tutti i dipendenti di Sebas quindi i dipendenti di Sebas è una scusione che non è accaduta perché sono passati a Sebas controlli Sebas controlli si è passato alla regione i dipendenti sono passati alla regione io ti ricordo l'anno scorso che stavamo anche la questione dell'accessione della quota al comune di dialettio perché c'è la dialettio è una cosa un po' articolata che sono fatta a livello istituzionale con la condizione senza la nostra discussione si vuole votazione favorevoli contrari assegno di consigli approvati risultati bilatti di priorità favorevoli contrari assegno di consigli approvati siamo appunto qua nel punto esame approvazione non delle due le prese di confusione e poi i fatti che le chiamo qualche po' nella rafforazione scusate definizione che guardate le controversie tributarie essenziali mi spiegava la ragioniera che è un argumento d'obbligo nel caso di sere forse noi lo cambiamo però si tratta della cosa di avortamazione delle cause tributarie cioè il momento in cui il cittadino tra il cittadino e il comune prende una causa presso una commissione tributaria in materia di accertamento in uffici eccetera eccetera e città domanda il cittadino questa causa può essere tolta la condizione che il cittadino paghi l'importo della prese tributaria del comune senza pagare interessi e eventuali sanzioni applicate quindi il vantaggio sarebbe questo per il cittadino che pagando solo l'importo che gli avevamo chiesto in pagamento senza applicazione di sanzioni che sono abbastanza pesate e né interessi si toglie la causa e finisce tutto lì e la contà che ci dà la legge e si è pensato di portare ho chiesto se non ci sono cause di corso di corso se venissero che è questa possibilità ci sono domande votazione favorevoli contrari astenuti astenuto o contrari astenuti il consiglio approssimo di interventi privati contrari astenuti che è arrivato l'ordine di grotto presentato dai consiglieri suoni di morbi staglietini se ne vuole dare lettura faccio la colletta ok faccio la lettura a te no è scure sì ok penso che sia più colletto se non è significato ok no non avevo capito se dovevo dare sì 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 in oggetto ai porti di diffusione del comune di fabbri di Vergemi non altri comuni tra vali del strezzo il consiglio comunale disse il dibattito per i comuni della Valle del Cercchio e della Valle del Cercchio relativa a ricordi di uomini di uomini di uomini che hanno municivi considerata la vicente esperienza in merito vissuta dalla nostra comunità che consente ai nostri cittadini oggi di essere molto più consapevoli rispetto ai vantaggi e divantaggi che tali processi producono tenendo conto che tali riflessioni non si debbano in d'orizia all'interno dei confini della nostra municipalità impegna la giunta in avviare un importante discorso di ascolto di confronto della cittadinanza con le categorie sociali e le realtà civili e politiche del nostro territorio in parerallero al confronto istituzionale passiva cioè amministratore e consigli comunali così da poter advenire alla fine del mandato istituzionale della nostra amministrazione con una decisione la più condensiva possibile condizione essenziale per la felice riuscita ai pari processi associati a comuni ecco la sinistra di cui siamo veramente proiettiva la scorsa settimana il consiglio con una discussione che ha visto illustrare più pensieri in discussione di noi ne va bene se bisogna essere pensi o di tutti pensi o di tutti pensi va tutto bene sicuramente ma quello che uno può andare a dire alla gente che non sappiamo di preciso quello che la regione o che l'ente vuol fare dobbiamo raccontare possiamo raccontare l'esperienza che abbiamo avuto prima ma credo che fino a tu non sappiamo quello che la regione ha intenzione di farci fare no questo sicuramente è che appunto da più parte avevamo sentito parlare dicevamo l'ascolto settimana in consiglio di questa fusione che si chiamava quasi imminente un po' la ingrandisce la questione ci mancherebbe altro però ecco ci sembra imminente è una cosa lunga da potersi fare tra le tempo e bene cominciare a farlo un po' prestino perché esatto la discussione tra di noi che volevamo mettere al centro non è arrivato l'uno e mezzo tra l'altro sai che i gaffagnati sono insieme fa parte di spagna che non avrebbe tempo che invagliare lo confronto e non gli si che fa mezzo a noi non è sì sì no no non è non vado avanti non c'è l'obiettà non c'è l'obiettà si conosce che si era detto l'altra volta è arrivato perché c'è anche condivisione il momento penso che la pratica ha anche visto non solo come aveva detto senza il mio governo continuerà allora avete rimandato il punto il consiglio viene votato questa la concione sì questa la è si 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 quindi questo impegno il consiglio vota questa richiesta è stata giunta dell'abbiare il compagno il consiglio sotto il confronto cosa che è nell'arco dunque è stabilita è un limone allevice prima a cale non stiamo vogliono qualsiasi parola le stesse stelle la seconda votazione favorevoli contrari assenuti così a scegliere quindi noi impostiamo questa votazione sulla base di un'ordine del giorno presentato dal gruppo di ignoranza che ottiene una iniziativa della minoranza iniziativa un'ordine che ci è arrivato dall'associazione della condivente di Lucca quella che aveva preso come giunto a tutti i comuni su per la propria è appunto per si visitare il Parlamento di un'ordine di un'ordine e in questo caso riguarda l'agricoltura molto legata al territorio e a tutela degli agricoltori mi sono sentito di portarlo perché l'obiettamente non ha colore se ci sono domande o osservazioni le comunicazioni che mi sento già dire che la strada, come sapete, a fabbrica rivale con la carta moglie è chiusa per il bisogno, perché la cosa è nuova dell'ultimo tratto della centrale interrettica. Proprio oggi sono stato informato che finalmente, non ho fatto un decreto a nessun'ora, il genio Cedì ha approvato il progetto della modifica sull'intervento del cedro a fabbrica rivale, che finalmente è stata l'immunologazione dell'intervento, si spara l'acquipata mezz'ottobre. Gli altri interventi della modifica, come sempre, devono partire per il settembre, abbiamo disegnato la modifica, quindi si è intervento sul fosso del Guilato, con il fosso del Pinocchini, con il Silvano e il fosso del Uriano. Gli interventi della difesa del suono sono stabiliti dalla letta Pandoffi, con un basso di circa 7% del tervento da mezzo del Pinocchini, solo partire la sfaltatura a Carobini e a Valico, è rimasta indietro per le fabbrica rivale, perché non si può sfaltare, perché poi hanno deciso che hanno approvato l'intervento in alto, quindi questo mi ritrovo fa un po'. Quindi non c'è un'ottima di scatola, perché adesso infatti l'intervento, a parte la sfaltatura, l'intervento dentro il fiume e l'intervento di restauro conservativo del Ponte di Polanti, prima partire in inizio agosto, prima partire fino agosto, perché la sfida Valle non ha completato bene le linee, quindi è stato un piccolo intervento da fare. Interventi che vanno a cavallare sulla piatta e che il dubbio è sempre, a solitare che siamo fatti, prima di asfaltare il po' risparmio. L'intervento dell'aspetto lì, come l'aspetto dell'Henel, che con l'intervento che abbia fatto è di recoltare un tratto di cavi. Si sta aspettando per evitare di spaccare la sfata che l'ha fatto. Queste sono le pubblicazioni principali, stamattina l'anno con l'assessore di donare i maschi alla gotta del vento, ho portato il vostro saluto e ringraziato con la sua presenza di tutti i consigli. È stata una bella esperienza per valorizzare la gotta del vento, quello che la gotta del vento ha fatto per questo territorio e che significa anche la necessità di migliorare varie abbinate. Io non ho reato, sentivo qualche cosa. Vorrei sapere chi è che controlla in questo periodo qui il percorso dell'acqua, del fiumonchese, le cenzialie sono ferme, se le vengono controllate, perché in generale si è più la riforma del fiumonchese, uno l'acqua di fiumonchese, sono ferme le centraline in questo momento, c'è qualcuno che controlla. Sono carabinieri forestali, che sono qui, assolutamente... Ma come io ho visto il fiumonchese di forno olasco? Che questo mi sembra molto calente, vorrei che ci fossero le griglie aperte e le situazioni aperte. Io, al di là che ho evaporato di una centralina, è veramente ridicolo. Quello che dice che la centralina consuma l'acqua... Sì, ma ci sono due ragazze... Sì, ma nei pezzi di come dove... la piglia... Un terzo intermedio... Nel terzo intermedio... Se hai capito... Se mi hai vinto quella paura d'acqua di Cimi Masara, non so quello non lasco perché lo conosco mio. Però un fatto privato, con i camporcelli, dove c'è la riforma al canzano della fortiera, si è sempre scettato da che il mondo è molto... Questo anno è molto bassa. Volevo solo sapere se c'è qualcuno che controlla. La centralina, perché il Dio, ci chiamano a avere un periodo, diciamo, dal primo giugno al primo di settembre. Da primo giugno alla... Dovevo sapere se la prima del ministro, è testo, è testo, è testo. Da primo di luglio alla prima del settembre. Sì, sì, sono più occasioni di caratteristiche di diversi caratteristiche di altre serie problematiche, presumo che mancano il controllo anche ora, che il cittadino. Lo che serve è dipendente, il rumore... ...l'intervento al vento. Presumo che infatti... E' vero, ho visto soprattutto quello in lastro, perché c'è un bel terzo di più che secolo. Il colturitare del fiume, secondo me, avrebbe rispettato. Ora, io non so quello che stanno facendo. Io spero che le indirizie si riduteranno. Ok. Allora, si fa la segreta l'osservazione perché fa parlo controllo, quello di te. Ecco, non so neanche rispondere, essendo una vera nostra... Ci manche le... Vi ricordo che c'è, in sé d'aggosto, l'ho scombrato il buccanone con Paolo Filippo, per rinomolare, qualcosa di più a me, il 31 luglio, il 31 di Arturitano Pinocchio, Pinocchio, io a fammi di divarico, e fra poco la presentazione del libro di Marciano Vittorini, qui in Piazza Fabrica. Se siete interessati... Scusi, come andate te? Sono due raggi interessanti, ho avuto questo percorso. E lo consiglio a tutti coloro che ci stanno guardando. Un po' di pubblicità, però... Un po' di pubblicità. Alcorsato, se non fosse così, grazie a tutti. Buone ferie, soprattutto per tutti. Buon bello.